Non solo grande opera e musica lirica al teatro sociale di Sondrio, nell'ampia gamma di spettacoli offerti entra una novità assoluta, la musica rock, con due appuntamenti assolutamente da non perdere. Il primo il 26 novembre, con il primo e unico tributo rock alle voci femminili e italiane, grazie ad un quartetto di professioniste che faranno vibrare il palcoscenico sondriese. Si tratta della voce Ariane Ferrari, dalle chitarriste Gloria Leumonti e Federica Mapelli e della batterista Michela Rota, che insieme interpreteranno in chiave rock le più grandi artiste italiane, Damina a Patti Bravo, da Gianna Nannini a Delisa e tante altre ancora. Il quartetto sarà affiancato da un ospite d'eccezione, Paola Zadra, bassista del noto Fedez e Steve Barnes. Una serata a tutta al femminile, organizzata proprio il giorno successivo alla giornata nazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, come ricordato dal direttore artistico Ezio Bianchi. La serata è proprio legata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi mi auguro che ci siano tantissime persone. Poi avremo la partecipazione anche di una bravissima pittrice e fotografo, Chiara Cesana, che esporrà le sue opere con dei ritratti femminili, quindi anche molto a tema. Ma non finisce qui. Il 21 gennaio apprenderà in provincia poco di meno che Maurizio Solieri, uno dei chitarristi più conosciuti e virtuosi d'Italia, autore dei celebermi assoli di Vasco Rossi, fra cui quello indimenticabile di Alba Chiara. Maurizio Solieri, chitarrista, autore di musiche straordinarie di Vasco, è una serata sua, ci tengo a ribadirlo, dove proporrà dei pezzi scritti per tanti autori, non soltanto per Vasco, pezzi suoi e delle cover internazionali, con una band tra l'altro di professionisti straordinari. Quindi una serata veramente storica per la provincia di Sondro. Un doppio appuntamento con il rock che permette al teatro di Sondro di diventare sempre più sociale. Avere l'apertura di un teatro così importante anche per la musica rock, secondo me, veramente, insomma, è cultura, la musica è cultura, come la letteratura, come la musica classica. I biglietti per il concerto del 26 novembre, dal costo di 10 euro per la galleria e 15 per la platea, sono già in vendita presso l'URPA di Sondrio, online sul sito del Teatro Sociale, oppure presso i punti vendita Viva Ticket. A breve saranno invece disponibili anche quelli per il concerto di Maurizio Solieri. Grazie.